Nessuna autorizzazione al progetto di utilizzo di CSS da parte del cementificio di Monsevice prima che vengano svolte severe e puntuali verifiche su quali siano i rischi per la popolazione. L'appello stavolta non arriva dal Consiglio Comunale ma direttamente dal Governo italiano che martedì scorso ha risposto all'interrogazione presentata in Senato dal democratico Giorgio Santini. Questa risposta dice che bisogna assolutamente fare ulteriori approfondimenti per escludere che l'utilizzo di questo CSS, questo combustibile che deriva sostanzialmente dai rifiuti possa creare dei danni alla salute delle persone e anche all'ambiente considerato che siamo anche in zona parco. Anche se in questa materia il Governo non ha competenza diretta ricorda Santini questa presa di posizione è importante per consolidare quanto ha già chiesto con chiarezza dal territorio. L'unica garanzia è questa che prima di entrare, prima eventualmente di autorizzare queste sostanze ci deve essere la sicurezza assoluta che non ci siano effetti negativi. Diversamente non va data l'autorizzazione.